architecture wall e qui dobbiamo scegliere che famiglia di muri la categoria wall la famiglia qual è se aprite qui vedete che avete tanti tipi ok tanti tipi però comunque sono limitati quindi lui fa 30 30 centimetri 20 centimetri questo spessore del muro e poi ovviamente ci sono i muri che ci hanno che ci hanno dettagli dentro questi sono generici di base allora noi dobbiamo sapere il nostro muro quanto deve essere spesso però possiamo anche farlo dopo abbiamo detto che questo è un modellatore parametrico allora facciamo così facciamo un muro nostro partiamo di quello generico però facciamo uno personalizzato facciamo edit type adesso selezioniamo uno di partenza di base generico 30 centimetri per esempio faccio edit type mi apre mi fa vedere la qualità di questo muro le qualità di proprietà di questo muro ok del del tipo di muro allora io faccio duplicate quindi duplico questo muro quindi mi crea un altro tipo di muro che posso dare un altro nome e poi posso cambiare i parametri del tipo faccio duplicate adesso mi dice quello nuovo come si chiama quello che vuoi allora io so questo casa lussimburgo posso dare anche un certo nome legato al mio progetto che questo è il muro che ho usato in questo progetto quindi esterno e posso scrivere anche lo spessore adesso lo spessore ancora non lo so non l'ho misurato ancora faccio vabbè lussimburgo esterno faccio ok e faccio ok e io non ho cambiato la proprietà adesso ho solo fatto uno nuovo che posso trovare qui tra questo tra questi allora adesso se devo cominciare a modellare devo vedere qui opzioni ok la cosa più importante vedere tra questi adesso all'inizio come deve essere allineato il muro alla linea che sto costruendo io se io faccio una linea da qui a qui lui mi mette il muro proprio con questo linea come asse al centro o esterno o interno quindi adesso poi posso posso selezionare per esempio finish face exterior quindi la parte esterna del rivestimento perché io ho il la linea di piano del riferimento è proprio all'esterno quindi voglio considerare che il rivestimento anche dentro perché il muro ovviamente anche lui sa che dove è il muro strutturale e dove sono i vestimenti poi vediamo come possiamo anche indicarli noi quindi clicco qua adesso sto lavorando dall'esterno clicco qua vedete mi lo crea con lo spessore suo se non mi piace la direzione posso cliccare su space su su barra spaziatrice e lui mi inverte la direzione di questo muro e lo porto fino qua ok mi avvicino fino qua ok posso anche continuarlo a farlo verso dentro però per ora va bene così non so qui come ho fatto va bene così perché se continuo dopo comunque lui mi collega questo ok faccio esche esci poi faccio esci un'altra volta perché adesso io sto sempre dentro il comando vedete mi dici modifica il muro se faccio esci un'altra volta adesso ho finito di modificare questo muro io non avevo finito però adesso posso basta selezionarlo e torno a questo a questo muro adesso qui devo dare lo spessore giusto io ho 30 centimetri e questo probabilmente con altri 15 può essere completato posso misurare o posso comunque provare guardate mi sembra 45 va bene quindi lo seleziono adesso devo andare su edit type modifica tipo ok mi apre le proprietà di questo tipo di oggetto io vado su structure ok la struttura di questo muro clicco edit ok allora qui ho il la struttura di questo oggetto che deve essere di 45 o posso fare che questo muro di 40 poi c'è un rivestimento interno rivestimento esterno ok quindi posso anche scegliere di fare così così quindi 40 ok e poi faccio insert voglio inserire un altro un altro strato su questo su questo muro vedete mi ha inserito un altro strato se voi notato qui è scritto lato esterno qui lato interno adesso come se sto modellando questo muro sto descrivendo questi strati se faccio preview qua mi fa vedere a sinistra la visualizzazione di questo muro come come strati strati adesso questo vado verso l'alto perché questo è il core che è praticamente la parte diciamo interna di questo muro che è la parte praticamente strutturale non il rivestimento se questo deve essere un rivestimento lo faccio up lo sposto verso l'alto e posso dire che questo è un finish ok faccio un altro e questo down down e anche questo un finish quindi finitura e finitura questa deve essere quello verso fuori facciamola di 4 cm per esempio vedete come adesso si vede un spessore di 4 cm e se quello verso dentro facciamo 1 cm per completare il 45 cm ma immagino che dentro ogni intonaco va bene fuori probabilmente pietra di quella bianca che dovrebbe essere un po' più spessa ok o possiamo fare qui facciamo 36 che è il numero più e qui facciamo 7 dai giusto quindi adesso tutto quanto sono eh tutto quanto 45 faccio ok vedete si vede così in sezione se voglio anche vederlo meglio questo qui posso dare il materiale qui ovviamente come vedete c'è il materiale di ogni oggetto di ogni oggetto di ogni strato di questo questo può essere secondo la categoria o può essere secondo l'oggetto stesso allora qui per esempio io preferisco cambiare la struttura il materiale della della parte interna faccio clicco su i materiali su questi tre punti e qui posso indicare che materiale è qui c'è la libreria di materiali che sono materiali predefiniti ok lui ha applicato il materiale default muro a questo io questa la posso modificare in qualche modo io adesso per esempio un'impianta voglio che questo è tratteggiato non cambio non cambio non seleziono un altro materiale anche se posso voglio solo modificare questo quindi questo cut patterns in planimetria quando è tagliato questo muro deve essere visibile con un certo pattern quindi clicco su questo qua vedete posso cambiare il fill pattern quindi seleziono per esempio questo qua ok questo si è tagliato surface pattern il pattern il diciamo il retino quando si vede in prospetto questa superficie ok per ora lo lascio lo lascio così poi poi lo modifichiamo faccio apply ok vedete adesso com'è c'è questo questa sezione questo muro ok faccio ok adesso ma qui c'è l'ok che io non riesco a vedere ok ok e abbiamo questa questo muro che è largo come vogliamo però qui possiamo cambiare il stile di vista guardate adesso hidden lines quindi ci fa vedere solo la superficie più alta di questo muro adesso è in 3D ok possiamo cambiarlo ad altri wireframe per esempio vediamo solo wireframe quindi vediamo sotto l'immagine ok allora hidden lines va bene per noi però vogliamo vedere il dettaglio dentro che si fa qua il livello di dettaglio medio ok alto ok adesso non c'è tanto non c'è differenza tra medio e alto però per esempio dentro qui il rivestimento dentro non lo vediamo perché è talmente piccolo che si copre le linee spesse li coprono possiamo togliere lo spessore della linea andando su view thin lines spessore minore vedete adesso si vede rivestimento interno rivestimento esterno ok ok allora adesso riselezioniamo il muro e vediamo come possiamo cambiare le proprietà di questo muro quello che vediamo a sinistra ragazzi è la proprietà dell'oggetto di questo muro quello qua invece quello che possiamo cambiare dentro il tipo si cambia su tutti gli oggetti legati cioè che hanno lo stesso tipo quindi se io faccio l'altro muro qua ok avrà la stessa se è lo stesso tipo avrà lo stesso spessore avrà diciamo i vari proprietà saranno le stesse se li cambio dentro edit type ok invece se cambio qualcosa direttamente da qui fuori sto cambiando solamente questo muro allora in questo caso questo muro deve partire dal piano interrato quindi posso dire qui dei vincoli nei vincoli posso dire che il pace constraint quindi il il vincolo della base quindi questa base di questo muro deve essere vincolata al livello del piano interrato e che vuol dire vuol dire che io se lo sposto il piano tutto il piano questo muro si si sposta come base vedete adesso vincolato al piano terra perché per default piano terra perché io l'ho creato quando stavo nella vista del piano terra faccio piano interrato top constraint non so dove arriva adesso faccio ok questo è arrivato al piano interrato vado sulla vista frontale che è il sud vedete come comincia da sotto e questo dovrebbe finire qua ok allora qua che vincolo è? questo un tot centimetri di altezza sopra il piano primo giusto? quindi qui posso dire che dovrebbe essere vincolato in alto a questo piano più che ne so 90 centimetri proviamo a misurare questa distanza sì sono 90 va bene quindi seleziono questo muro di nuovo mi lo seleziono eccolo adesso top constraint livello del piano primo ok arriva fino al piano primo però top offset ok offset del primo piano più 90 centimetri può essere anche meno se finisce prima però che vuol dire? se sposto questo piano lui comunque si sposta con 90 centimetri in più quindi faccio 0,9 apply vedete arrivato fino a su allora immaginate se io devo fare questo lavoro che succede? se questo lo sposto vedete questo si sposta legato a questo e in più 90 centimetri allora adesso la prima cosa che vedo quando vado in 3d guardate solo un muro ok adesso non abbiamo fatto nient'altro vado alla vista frontale di nuovo al sud adesso però dobbiamo cambiare questo muro creando questi buchi dentro giusto? quindi vediamo come dovrebbe venire qui abbiamo una finestra giusto invece questa un'apertura allora vediamo questa finestra come è fatta questo è il piano primo ecco piano terra allora questa è un'apertura invece questa è qui un'apertura qui una finestra va bene posso comunque considerarla come un'apertura come questa qua e posso toglierla aprire allora dalla vista frontale seleziono il muro e posso cambiare il profilo di questo muro edit profile adesso qui guardate mi fa tutto il profilo di questo muro in magenta questo lo posso cambiare io modificare togliere come se sto lavorando con AutoCAD immaginate quindi posso creare queste linee nuove chiuderle però però devono essere chiusi e poi posso fare ok e lui prende la forma nuova vedete questi strumenti da disegnare quindi posso creare i muri e diciamo le linee nuove come voglio io o posso anche usando peak lines posso selezionare le linee che mi piacciono se io già ho un CAD per esempio qua un AutoCAD posso selezionare queste linee e dire che questi devono essere il limite del muro però ovviamente avendo immagine raster le devo disegnare io quindi faccio così adesso vado su line posso disegnare questo muro io ok con shift mi sposto così vedete adesso ho fatto snap sul livello del piano terra ok ok faccio così così fino qua così ok adesso questo lo posso tagliare vedete qui possiamo usare trim extend questo trim e extend di AutoCAD insieme si trovano qua qui e qui vedete come ha tolto questo attaccato questo con questo e anche qui ho fatto un angolo quindi adesso ho svuotato tutto questo è diventato questa la superficie chiusa dove c'è il muro mi manca anche questo posso creare un rettangolo sto tutti quelli che sto facendo queste curve che sto creando queste linee sono sono il profilo del muro non è che sto creando una linea a parte sto lavorando dentro il muro adesso ok ecco da qua a qua ok vedete possiamo anche aggiustare i numeri quindi mettere i numeri precisi però va bene faccio ok vedete che succede adesso se vado nella vista 3d se ho fatto questo ok 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 ok